Musica Finale di Coppa Italia Tornamento in facoltà, calcio a 6 Cittadella Lecce Agli ordini del direttore di gara Francesco Pernella Della sezione di Napoli Per il Cittadella con il numero 1 Francesco il cinese Lannia Con il numero 8 Emanuele Lenito Cosimo Con il numero 10 Domenico il mangiato Mangiore Con il numero 2 Vittorio Vitticio Bugione Con il numero 9 Lorenzo Elfi Pisa Milano E con il numero 7 Pasquale Pachito Giaciello Per il Lecce con il numero 99 Il portierone Giovanni Parasutto Esposito Con il numero 37 Pasquale La Vecchia Guardia Con il numero 26 Emanuele Lano Annunziata Con il numero 9 Rosario Obionde Cosimo Con il numero 10 Mariano Sprit a testa Con il numero 19 Daniele Capitano De Stefano Dei con il numero 11 Francesco La Promessa Verdetti In bocca al lupo artistico e che sia il campo adesso a decretare La Maniglia Corona La Maniglia Unitrice Di Teresiva 2019 Sì, scusere mi metterò 5 puts whatever Un po' altri же o o è buono buono no Oh, è passato! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.